Ciao domotici, bentornati sul canale di pensiero dell'architetto per questa nuova release di Home Assistant la versione di maggio 2024, importanti novità sia sulla sicurezza del nostro Home Assistant ma anche altre chicche molto interessanti per gestire al meglio la nostra piattaforma domotica ma avete visto quanti iscritti ha raggiunto il canale di pensiero dell'architetto? 10.000 proprio in questi giorni, vi ringrazio veramente tanto 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 ricordatevi di commentare, lasciare un like e iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ancora un grazie a tutti i sostenitori di questo canale grazie ancora e ora sigla partiamo subito allora con le novità di maggio 2024 della nostra piattaforma di Home Assistant in particolare è stato messo un importante lucchetto alla sicurezza della nostra piattaforma domotica ma andremo a vederla più avanti nel video ora andiamo a vedere una serie di cose veramente interessanti e di aiuto per lo sviluppo e l'organizzazione al meglio della nostra piattaforma domotica prima di tutto andiamo qua sul blog di Home Assistant dove vediamo la nuova immagine della release 2024.5 dove va a indicarci tutta una serie di cose saltiamo la prima parte che andremo a vederla più avanti nel video perché molto interessante e necessiti di alcuni approfondimenti e ora andiamo sulle cose un po' più semplici da trattare ed in particolare se vi ricordate nel mese di maggio gli sviluppatori avevano introdotto le ricerche e i filtri nelle tabelle in particolare come sono state potenziate andiamo a vederlo insieme andiamo qua sulla mia piattaforma andiamo in impostazioni automazione scenari avete tutta una serie di filtri che potete andare ad abilitare per andare a selezionare i vostri dispositivi oppure addirittura le singole aree ok? però se voi andate in questa zona qua vedete che c'è questo pulsante se voi lo cliccate vedete che si aprono questi altri tre pulsanti sposta nella categoria aggiungi etichetta sposta nella zona questo ci aiuterà a essere molto più veloci infatti se io vado in etichetta attivo prova e prova 2 mi trovo questo movimento cucino spegnimento luce che è un'automazione cosa posso fare? cliccando qua sopra posso andare a dire spostamela nella categoria prova mi aggiungi l'etichetta prova andando a selezionare piano terra oppure prova 2 vedete che non esce fuori clicco su prova mi esce fuori quindi qua potete andare a raggrupparlo anche per categorie per stato aggiungere l'etichetta che volete spostare nella sezione che vi interessa e nella varie categorie ok perciò in questo modo se voi andate a toglierlo di qua però andiamo magari in categorie mettiamo prova vedete che esce fuori la nostra automazione che abbiamo selezionato precedentemente per uscire da questa modalità basta andare qua sulla X si clicca e si torna alla nostra situazione iniziale potete andare anche a rivedere il raggruppamento per stato area categorie stato e tutti questi altri raggruppamenti che erano già oggetto del precedente video dell'aggiornamento di home assistant se invece andiamo in dispositivi e servizi andiamo in dispositivi di qua vedete che anche qua avete la possibilità di andare ad aggiungere delle etichette spostare nelle varie zone nelle entità invece avete la possibilità di andare a raggruppare anche il tutto come dominio questa qua è una novità che è stata introdotto proprio con questa versione qua qua potete ordinare per nome di identità area stato e così via in più ora viene memorizzato l'ultimo raggruppamento utilizzato e se sono stati compressi o meno è l'ordinamento che hai utilizzato quindi quando ritorni a questa pagina sarà la stessa che l'avevi lasciata cioè in questa situazione qua vedete se qua voi la lasciate chiuso o aperto quando ritornate in questa pagina qua lui si ricorda di questo stato in cui avete lasciato la pagina in questione ma andiamo avanti con l'ulteriore novità gli aiutanti vengono creati dall'editor di automazione infatti cosa succedeva prima? succedeva che se io avevo bisogno di un aiutante particolare e stavo creando un'automazione dovevo uscire dall'automazione andare a creare l'aiutante poi richiamarlo nell'automazione e in questo modo perdevo un po' di concentrazione adesso ci danno la possibilità di andare effettivamente a creare questi aiutanti direttamente nell'automazione ma andiamo a vedere subito insieme come bisogna fare allora se noi prendiamo ad esempio un'automazione qualsiasi di prova ok ad esempio suona campanello adesso se io qua mettiamo che andiamo ad aggiungere un'azione di cui ho bisogno di un aiutante qua ho già tutta una serie di miei aiutanti che posso andare a inserire ad esempio un timer gli dico avvia nel momento in cui andrò a scegliere l'entità che mi serve per far attivare questo aiutante questo timer vedete che qua non ce l'ho devo andarmelo a creare allora in questo caso dovevo uscire dare a creare l'aiutante e dopo procedere allora noi cosa facciamo? di qua è stato inserito questo nuovo pulsante crea nuovo timer aiutante si clicca qua sopra qua si va a scrivere timer si dà qua un'iconcina che ci piace mettiamo la nostra durata 30 secondi e si crea il nostro aiutante viene creato qua vedete proprio qua inserito direttamente nella nostra automazione esci e siamo a posto e questo qua diciamo è un'ulteriore novità interessante che ci aiuta a velocizzare praticamente tutto quello che è legato alla realizzazione degli aiutanti in home assistant quando siamo all'interno della creazione dell'automazione vengono inserite le nuove funzionalità delle serrature infatti nella serratura avete più possibilità adesso io ne ho creato un paio utilizzando le card avete la possibilità del classico pulsante il pulsante con i due comandi diciamo e poi come vi fa vedere qua avrete la possibilità di avere il pulsante con i due comandi e la domanda cliccando praticamente su open door sarà richiesta una domanda dove vi dicono siete sicuri di aprire la porta e questo qua diciamo una sicurezza in più per la nostra abitazione voi cliccate sì e la porta si apre oppure il singolo pulsante diciamo sempre con la domanda di sicurezza ma ora arriviamo al nodo cruciale dell'aggiornamento di home assistant di maggio 2024 è stata implementata ulteriormente la sicurezza del nostro dispositivo domotico devo dire che questa volta home assistant è veramente superato infatti ha inserito delle importanti novità che vengono più facilmente utilizzate dagli sottoscrittori del contratto di Nabucasa infatti questo viene facilmente utilizzato dagli abbonati perché è già stato preimposto diciamo graficamente dove lo trovate? lo trovate sempre qua praticamente andate in impostazioni home assistant cloud qua praticamente avrete la possibilità di andare ad attivare i sistemi di sicurezza questi sistemi di sicurezza ora vado a spiegarveli nel dettaglio in cosa consistono praticamente questa connessione riservata è stata strutturata in vari step principalmente in tre step il primo step praticamente rimane inalterato rispetto a quello che succede adesso cioè nel momento in cui voi andate ad accedere a home assistant dall'esterno vi si apre la casella con l'user e la password inserite usare password e chiunque abbia quell'user e quella password anche se sono fuori da casa vostra e non si sono mai collegati in locale possono entrare tranquillamente sul vostro raspberry e da lì andare ad intervenire sui vostri dispositivi domotici questa connessione riservata prevede altre due tipologie di connessione la guard page e drop connection principalmente la guard page dà la possibilità all'utente di vedere la pagina mettendo l'url una volta che è collegato dall'esterno non in locale dà la possibilità a quest'utente di vedere la pagina con le credenziali di home assistant perciò si va a presupporre che dietro questa pagina c'è comunque un dispositivo che fa girare home assistant quello succede che non è possibile comunque effettuare l'accesso a meno che non si disponga di un collegamento di accesso temporaneo per la generazione di questo link dovrà essere generato tramite un accesso locale tramite un dispositivo con credenziali di amministratore l'amministratore all'interno della propria abitazione potrà generare questo link e può inviarlo all'utente che vorrà far collegare temporaneamente sul nostro dispositivo di home assistant la drop connection invece è la sicurezza più assoluta questa terza opzione praticamente cosa prevede prevede che nel momento in cui io vado a inserire il mio indirizzo dall'esterno della mia abitazione cosa succede che non verrà neanche fatta vedere la pagina di accesso rilasciando praticamente un errore sul nostro browser facendo credere che quel link non sia presente alcun home assistant c'è la possibilità di configurare queste ulteriori connessioni sicure anche per i no abbonati a Nabucasa però bisogna lavorare tramite il codice YAML vedremo in futuro di realizzare un tutorial proprio per implementare questa sicurezza all'accesso da remoto del nostro home assistant un'importante novità l'abbiamo anche sul pannello energia finalmente possiamo andare a configurare qua al fondo i nominativi qua delle varie entità che vengono utilizzate nel totale dei singoli dispositivi come si fa semplicissimo andiamo sui tre pallini configurazione energia dispositiva nel nostro caso vogliamo andare ad esempio a cambiare questo nome qua schiacciamo sulla matitina caldaia energia istantanica la chiamiamo solo più caldaia con pompa calore salva se ora noi torniamo su energia andiamo al fondo vedete che il nome è stato cambiato in caldaia con pompa calore altri cambiamenti degni di nota andate a leggervi direttamente sul blog dove troverete tutti i vari passaggi le varie novità nuove integrazioni guardate se c'è qualcosa che può interessarvi integrazioni ero disponibili per la configurazione sull'interfaccia utente e se avete bisogno di aiuto i soliti link ai forum chat discord blog e quant'altro e qua avete ancora tutta una serie di modifiche degne di nota netatmo modelli server tracker eccetera anche l'addio a Epson Workforce trovo bellissimo questa traduzione tifosi dal culo grosso e ora non vi resta che lasciare il solito mi piace iscrivervi al canale lasciare un commento su quello che ritenete utile in questa versione oppure quello che ritenete superfluo ciao domotici ancora un grazie per il raggiungimento di questo importante traguardo ai 10.000 iscritti continuate a seguirmi e al prossimo video ciao